Regione Marche, scuola insieme per proteggere e promuovere la salute dei giovani grazie al protocollo siglato dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e da Luca Galeazzi, vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche. L'intesa, le scuole che promuovono salute, consolida e formalizza i rapporti di collaborazione per favorire e sostenere nelle scuole marchigiane attività, iniziative e progetti di promozione della salute in applicazione del condiviso piano regionale della prevenzione 2020-2025. Rientra nel piano regionale sulla prevenzione, quindi corretti stili di vita, la prevenzione dei fenomeni di abuso di sostanze stupefacenti, di uso di alcol, anche i temi relativi alla guida stradale, sono numerosissimi gli incidenti stradali che capitano per questi fenomeni. E poi, diciamo così, la prevenzione per quanto riguarda la corretta dieta, la pratica sportiva e così via. Tutta una serie di misure che abbiamo concordato con l'ufficio scolastico regionale per far sì che la cultura possa impedire eventi in fausti, ma anche una spesa sanitaria che molto spesso non dovrebbe essere sostenuta perché appunto, soprattutto per i ragazzi più giovani, la prevenzione diventa fondamentale anche per la loro salute. Sì, noi con piacere rinnoviamo questo accordo, questo protocollo che abbiamo con la regione ormai da qualche anno per la promozione appunto di scuole che diventano i propri agenti promotori della salute per i ragazzi. Un mare di iniziative e di progetti che riguardano appunto la promozione di stili di vita adeguati, la lotta alle dipendenze, la sicurezza, la promozione del valore della sicurezza. Tutta una serie di iniziative che si incentrano sugli studenti e che fanno sì che le scuole diventino appunto questo veicolo di promozione per questi corretti stili di vita. È normale che la scuola si faccia parte attiva di questa formazione che vada al di là appunto della formazione didattica ma che si allarghi sempre di più a quelli che sono gli stili di vita appunto necessari diciamo per far sì che qualsiasi alunno dalla tenera età fino all'età diciamo della maturità venga accompagnato oppure venga diciamo indotto a far sì che la sua vita sia il più possibile corretta da un punto di vista in particolare della sua salute, del rispetto della sua salute e del rispetto della vita degli altri.